Musica Termina l'andata della Coppa Italia con la vittoria della Fiorentina Sulla Atalanta per una rete a zero con il gol di Rolando Mandragora Che decide l'andata, si deciderà però tutto al ritorno Andiamo a vedere il tabellino, il tabellone In realtà per quanto riguarda le prime due partite Abbiamo commentato ieri sera insieme alla Juventus Che ha vinto 2 a 0 sulla Lazio con Gesevlovic Questa sera Mandragora con l'Atalanta Al ritorno si partirà dallo 0-2 per la Juve In casa della Lazio il 23 aprile E il ritorno a Bergamo al JV Stadium Per provare a rivaltare l'Atalanta per un sogno la Fiorentina Il 24 aprile E allora noi partiamo però da quello che è successo ieri sera Perché avevamo modo di parlare La Juve è uscita dalla crisi Vi chiederemo due Non solo se è uscita dalla crisi Le parole di Tudor La Juve è come il reale il City quando attacca Cantella ha un paio di opinioni su questo Ne parleremo insieme Volata Champions L'Inter che è un po' in apnea Ma si appresta a festeggiare il ventesimo scudetto E il Milan che si appresta a mantenere pioni Buonasera Manuelaia Quinta Buonasera Gianluca Buonasera a tutti gli amici da casa E già ieri ero a Torino a vedere la mia Juventus E con Alessandro Crivelli addirittura Sono con Alessandro Del Piero No no Ahimè no c'era Crivelli Però che ha portato fortuna appunto alla squadra bianconera Abbiamo visto un primo tempo disastroso Ma il secondo tempo ci ha dato soddisfazione A noi per forza cuori bianconeri Ma ne parleremo comunque no? Questa sera Però parliamo appunto anche della Fiorentina Della viola di Baldi Quindi vedremo Io voglio vedere il suo entusiasmo Perché non l'ho ancora visto Ne parleremo con voi fin da subito Mi raccomando il numero di Whatsapp è 347-841-5096 Messaggi brevi Nome, la città dove ci scrivete E ovviamente sull'argomento di cui stiamo parlando Siamo però anche in streaming sul canale YouTube Fulvio Collovati Official Lì chi ancora non si è iscritto si deve iscrivere Mi raccomando E ovviamente potete commentare anche lì sulla chat Che c'è la chat dal vivo Ovviamente quello che pensate Eh già esatto 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 Qualcuno già ci sta scrivendo Ieri Fulvio Epocale È un hater anche lui Sì Daniele È un hater E allora A proposito di hater È con sommo rispetto Che No A chi stai iscrivendo? Non ti preoccupare Buonasera Carrieri Buonasera a tutti Volevo chiederti una cosa Inter apnea In apnea decede che cosa? È la canzone di Mamma Marrone Ah ecco No in Inter in apnea 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 non sta giocando male l'Inter in ultima partita Ha vinto Un gol per tempo Senza subire gol E comunque non disturberò Perché sono teso per la partita più importante della stagione Che quella di lunedì Contro chi è? A Udine Giocano? Ah si gioca L'udinese con noi gioca L'udinese contro di voi gioca Invece contro gli altri si ferma a guardarle le partite Giusto? Ho capito bene Perfetto Infatti la Juve ci ha perso in casa con l'udinese Non dico la Juve Ho detto in generale In generale Allora 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 Lui è un altro di quelli È un po' agitato È nervoso È sfiancato dall'andata Ma ciao Baldi Buonasera ragazzi Ora siamo tornati a vincere ragazzi Incredibilmente Però la prima cosa Ma chi è di quello? No no Poi si parla anche di quello Stai calmo E con questo manevantismo Ma è bello e rotto le scatole Tutte le volte ci si vede È sempre la partita più importante dell'anno Dalla prima giornata È vero C'è la matematica È vero Sì perché la matematica non è un'opinione Va bene dai Esatto Il gol di Mandragora Il gol di Mandragora C'erano C'erano più figli facciamo Per vedere questi gol qua Io abbiamo la possibilità di vedere un Mandragora No per vedere questo gol qua Questo gol qua Dove l'ha messa E ieri Ma aspetta E come ti tiriamo le orecchie A te Che hanno insegnato A me Oh non fare il paraculo te Io sono il paraculo Tu sei il paraculo Quando ti metti lì Amico mio Vedi che io su Vlatico Ho tutta la mia signoria su Vlatico Che Vlatico lo venderei mai Per prendere quel cittacchiotto che sono in giro Quei videino tu piangi E poi ti fanno nulla e tu godi Ma quello perché Fai pace con il cervello Amico mio Quella è la parte che me la richiede Di fare un po' la palla Lui l'ha fatta pace con il cervello Ma perché dobbiamo tirare le orecchie a Cantella? L'ha segnato Chiesa e ha segnato Vlatico Dava Manu Ti ringrazio per la difesa d'ufficio Buon suor Io me le posso anche tirare da solo le orecchie Ma tu vuoi un giallo orecchiette? Ho fame Ho fame Non mi dispiacerebbe Quello è il gol di Rolando? Ma ragazzi Hai visto parola cos'è lo Catelli? Ecco stavo per dire la stessa cosa Ma io e te perché Ci metti sotto Aspetta Ma anche il gol di Vlatico Ha segnato Locatelli per stare Un gol? Chi è che non l'ha segnato? Ha segnato o l'ha segnato? Beh Chi è che non l'ha segnato? Locatelli l'ha segnato con la complicità di Krunic Eh Bravo Mi metti Mi metti l'abbiamo sverginato noi Giusto contro di te Ah Ken Ken sta dicendo Eh Eccoci qua Eccoci qua Allora io posso anche tirare le orecchie da solo Ma non ho Alcun motivo per tirarmele Perché abbiamo scoperto Ieri sera Che Lo scopo del gioco del calcio È correre verso la porta avversaria Bravissimo Mi domando Mi domando Che vero Se ci volessi Allegri A 9 milioni di euro Nella stagione Per capire che Lo scopo del gioco del calcio È correre Verso la porta avversaria Ma scusatemi No ma lui non lo diceva Ma perché prima Ma perché prima Gli diceva di Correre verso la propria porta No non gliel'ha mai detto Guarda io sono testimone Allo Stato Non gliel'ha mai Sono un po' terrorizzato Continua mai Però 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 Ma questo si è la mente Allora però prima vorrei partire No Partiti scherzi Un inciso Anche perché abbiamo avuto modo Di consultarci Con l'editore Grandissimo Certo E lo salutiamo Lo salutiamo tutti qua Allora Abbracciamo addirittura Caramente Abbracciamolo pure Allora Dario Volevo partire però da te Perché un pochino Della partita Dobbiamo parlarne In realtà ci stanno scrivendo in tanti Ci dicono Atalanta non pervenuta Fiorentina ok Però Se avesse fatto il gol del 2-0 L'avrebbe messa magari più in cassaforte Sì Sono d'accordo con questa disamina Ma questo è normale chiaramente No no Sarebbe stata questa disamina Perché ragazzi Carnesecchi si merita il posto da titolare all'eropeo Una parata Una Ne ha fatte due Sul Niko Gonzales Una poteva far di più Niko Gonzales Ci siamo mangiati un gol con Ranieri Più una quarta occasione Terracciano gliene ha prese due Allora Baccher se ne ha mangiata una Ne ha presa una su Scamacca Se non sbaglio Detto questo ragazzi Primo tempo La grandiosa Atalanta La macchina La gioiosa macchina Da guerra di Achille Gasperini Detto anche Gian Piero Occhetto Per gli amanti della politica Non l'abbiamo vista Ma io so benissimo Non ti permetterai mai più di toccare Achille Occhetto No no So benissimo però che al ritorno Sarà una battaglia di quelle epiche Però non ci arrivo Dario Perché poi ti voglio chiedere Perché in realtà Però sembriamo anche i brutti parenti Di quelli visti col Milan Non so se è l'effetto Buonaventura Non so se L'italiano deve aver preso a calcio in culo Milenkovic Per fare la fase difensiva Ma sei contento Dario Stasera sì ma ragazzi Ma non si vede Ma è una gioia effimera Perché c'è da giocare in ritorno In un campo dove ci sarà uno stadio E nemmeno l'arena dei gladiatori Prima che escano I gladiatori Per ammazzare Allora aspetta arrivo Manu Dovesse passare la Juve In vista della finale Di Coppa Italia Vai Lui fa le corna Preferiresti incontrare in una secca La Fiorentina O l'Atalanta Occhio perché uno direbbe subito La Fiorentina No invece io Occhio perché l'Atalanta La Juve quest'anno Ci ha pareggiato due volte A Firenze ha vinto È vero che non ha rischiato tantissimo Però la Fiorentina L'aveva messa lì Alle corde Certo Allora Anche con l'Atalanta Bergamo è stata messa Alla Bergamo Sì ma Sì a prescindere comunque Le ultime partite di questa stagione Vedo appunto La squadra viola Molto agguerrita Soprattutto ovviamente L'abbiamo vista questa sera Per quanto riguarda L'obiettivo Coppa Italia Quindi a parer mio Temo di più eventualmente La Fiorentina Gauri Quindi spererei Nell'Atalanta Ma io invece Vedo meglio La Fiorentina Come avversaria per la Juve L'Atalanta in genere Fa sempre soffrire Maledettamente la Juve Negli ultimi anni C'è anche da dire una cosa Dopo arrivo da Dario Lo chiedo a Davide prima Davide C'è anche da dire una cosa È vero che tutte e due Hanno i quarti di finale Di conference Di Europa League Una però gioca con Liverpool E molto probabilmente Può lasciarci le penne L'altra Gioca contro Squadra che tutto sommato Ha un accesso Ha una via Preferenziale per la finale Forse se vado a beccare In finale Preferirebbe beccare La Fiorentina Se dovessi fare Il ragionamento Della stanchezza Aggiungere una cosa Anche perché l'Atalanta Con tutta probabilità Sarà coinvolta Fino all'ultimo A una lotta Per il quarto Barra quinto posto Mentre la Fiorentina Almeno per quanto riguarda La prossima Champions League Si è un pochettino Tirata fuori Secondo me Danio L'abbiamo capito Contro il Milan Anche se In chat Domenica Nel calcissimo after Da cui rimando Ovviamente anche Domenica Tanti mi dicevano Ah non è vero No c'è Juve e Fiorentina Ci deve essere per fuoco Ci ammazziamo Però ti dico Il vero punto è un altro Ovvero Domenica secondo me Italiano ha detto Noi dal campionato Ci tiriamo fuori Quindi sono d'accordo Con Carrieri Io però se dovessi scegliere Tra Lazio e Juve Io vi dico Se fossi uno Juventino Non direi mai alla Fiorentina Ma non perché voi dite Ah noi siamo superori E loro sono provinciali Quanto perché L'anno scorso La somma di partite Ci ha portato Si stanchezza Però noi alla fine dell'anno Eravamo una macchina da guerra Cioè tutti i giocatori No ma bravo Infatti quello lì Con il più scato Occhio perché poi magari Succede che Ti svolta talmente La stagione Che a un certo punto La stanchezza La subisci E ti fai di inerzia Anche stasera Il tuo miglior giocatore Non pervenuto Cioè Nico Gonzales Che è l'unico giocatore Su cui potresti fare Die milioni In questa squadra È l'unico giocatore Che potrebbe giocare In quelli sopra di te Non pervenuto Come nell'ultimo mese Da quando è rientrato E quindi se lui È il peggiore dell'attacco Immaginati se c'è questo E comincia a segnare Vuol dire Che torni a essere Una squadra molto competitiva E poi ti dico Un'altra cosa E chiudo Da tifoso della Fiorentina Ti dico Preferirei trovare la Lazio Perché conoscendo I miei polli Sarebbe una settimana Già la finale La vivi con l'attesa perenne Perché è da 2001 E non vinci una mazza Se la giochi contro la Juve La vivi con quell'attesa perenne Di Ah dobbiamo vincere Noi siamo Eh I gobi E tu Come a me tu pigi Con Davlovic Il novantatresimo Tu stai zitto E torna a casa Senza Hop Un altro anno di fila Dario ma quindi tu Ovviamente Sei un po' tifoso Della Lazio Io la Lazio Ma anche perché L'olimino si Sarà pienissimo Però non mi posso Far impaurire Da uno stadio E fai male Giusto Chantel Ma la divisione Poi dei biglietti E qui parla Beh però Nei settori neutri Ci saranno sicuramente Più tipi della Juve Ma vabbè Permettetemi di spezzettare Una lancettina Piccola piccola Ma falla piccola Favore di Dario Falla piccola in generale Tanto che l'anno scorso Economè ha perso due finali Che non meritava di perdere Ma avere la fortuna È un po' incredibile Con la Fiorentina Per cui penso che Se riuscirà ad andare in finale Quest'anno Anche se giocare contro la Juve Portereà a casa La Coppa Italia Allora Io ho appena il figlio d'Apollo Vi leggo anche il messaggio Dai Vogliamo Cantella Daniele Monticello Cantella c'è Domanda per i club Berigobi In studio a casa Opzione 1 La Juve vince la Coppa Italia Arriva in Champions Allegri viene confermato Con l'ingangio rinnovato Per altri tre anni Ci suicidiamo io e Cantella Opzione 2 La Juve va fuori Al ritorno con la Lazio Sprofonda ancora di più In classifica Resta fuori dalla Champions Allegri viene esonerato Quale scegliete? Madonna La seconda qual è? Scusami Qual è la seconda? La seconda che va La seconda che va tutto male E che la prima va tutto bene Ma no Sarebbe la terza opzione Che è quella più disperata Che esci fuori da tutto Ma la inserisco io Esci fuori da tutto Perdi Sì questa è l'opzione No In più non viene esonerato Allegri Ti dico io come finisce Manu La Coppa Italia Non so se la vince o no In campionato Ce la arriva tra le prime quattro Perché non può essere altrimenti E Allegri Benissimo Valdi sei amico di Franca Allora ti stimo Anche se ti di Fiorentina Cantella Dov'è il tuo barbiero? Hai fatto l'isola dei famosi? Ho fatto l'isola dei famosi Ho fatto il casting Io non ho visto la partita Fiorentina-Atalanto Preferite guardare il City Aston Villa 4-1 va bene Grazie Oh bene Bagnatevi la bocca Con la Premier League Possiamo parlare di altro Antonella Ciao ragazzi Cosa deve fare Ildiz per avere un posto A titolare Ieri sera ha fatto Un'azione mostruosa Da fuori classe Ci arriviamo Baldi stasera è contento Come i carrieri Quando svaliggia il McDonald's Di Loretto di notte L'ho fatto spesso con noi Atalanta squadra svuotata Va a prenderne tre Per me l'Atalanta-Fiorentina Non cambia nulla Da Juventino Dai vi leggo anche Qualche Whatsapp Meglio la Fiorentina In finale In difesa gioca con Ranieri Ah no ci sei tu E no ci sono io Giallo Allora c'è Roberto D'Amerlino Dice la Juventus Che incontra Che incontri la Fiorentina L'Atalanta in ogni caso Le prenderà E poi ancora Antonio Da Monza e Brianza Stasera tutti ad onorare Ad aspettare l'Atalanta Buffoni contro il Napoli Avevano vinto lo Scudetto Quindi leggo sia ovviamente Per par condicio Sia quelli positivi Che gli Ethers Bruno Juventino da Torino Che ci segue sempre Dario facciamo un patto Domenica vi scansate E noi ci scansiamo in Coppa Ma penso Guarda Bruno Se non andiamo in Champions Quelli della Continasta Sono capaci di tenerlo Il Livornese Per mancanza di fondi economici Guarda Manu Te lo dico sinceramente La mia grande paura È da tifoso Perché diciamocelo Se si perde Mi incazzo come una scimmia Nonostante Si sia fuori dal campionato Perché non penso Di essere inferiore al mondo Non penso di essere Una squadra da ottavo posto Dal decimo posto Penso di essere una squadra Dal settimo ottavo posto Però ti dico La mia Il mio terrore da tifoso Si mischia al mio Conoscere poco di pallone E quindi io credo Per l'amore di Cantella E carne ai confronti da Allegri Che noi saremo la vittima sacrificale Per rilanciare Sul vassoio Del grande calcio L'ottimo Max Beh la vittima però Non cosciente No no la vittima cosciente Nel senso Andare a riposarsi un po' Perché te giovedì E hai bisogno Cosa hai detto? Beh allora Allora guarda Puoi dare il tuo reclam Allora andiamo in reclam Come andrebbe Repubblica Cia Giovedì prossimo Dove? A Pusen Reclam A Pusen Tra poco Non c'è leggere Sta roba Di Tudor A tra poco A Pusen A Pusen A Pusen Grazie a tutti A Pusen 150 giga 150 giga E chiamate illimitate A 7,95 euro Al mese Per superare Ogni tipo di sfida Anche con te stesso Con Fastor Mobile Tu sei futuro Il classico Lungo Parma Giuseppe ama viaggiare con la mente Mentre gioca a burraco con la moglie Ma perde le staffe Quando avvincere è lei Giovanna adora sognare posti esotici sotto l'ombrellone Ma perde le staffe Quando Carla si lamenta di Giuseppe Giulio spinge sulle staffe E corre in aiuto di Giovanna A Stazione Radio Tutti possono trovare un modo per viaggiare Scopri le nostre radiobici Su stazioneradio.eu Stazione Radio La voce che ti fa viaggiare Dal 5 aprile in via Tofane 45 a Milano Con ospiti, musica e birrette Rompi il ghiaccio con Vividen Xylit 100% Xylitolo Vivi Fresh al 100% La strada verso il futuro E' fatta di sfide continue Perché quando accetti una sfida Non è per battere un avversario Ma per superare te stesso E se scegli Fastweb E' perché sai che la nostra di sfida E' il tuo futuro Fastweb Tu sei futuro E' il tuo futuro E' il tuo futuro E' il tuo futuro E' il tuo futuro se ti viene fame a lavoro con gli amici o in famiglia entra in Glovo e scopri un mondo di possibilità gastronomiche piatti salutari, locali, asiatici e molto altro con promozioni ogni giorno al 2x1 o con sconti fino al 50% scarica Glovo e ordina cibo, spesa e tutto ciò che vuoi Glovo, tu ordina, ci andiamo noi Rieccoci con Calcissimo dai allora vi ricordo che messaggio io da Youtube spero che oltre all'Inter anche la Fiorentina o l'Atalanta vincono un trofeo e magari Milan e la UEFA anche se non c'è chi la farà più col dito medio come Ambrosini quindi Allegri dopo ieri lo tenete per altri dieci anni Antonio Tricarico Buonasera ragazzi, contento per la viola di Baldi dice Enrico Olm secondo solo a Mancini della Roma come antisportività fatta a persona no, però io voglio dire una cosa che qua, allora adesso faremo un po' una discussione sulla Juve ma passeremo a parlare anche di Inter, Milan faremo la volata a Champions allora dobbiamo parlare qua nessuno di noi ha mai detto che la Juve è uscita dalla crisi però ve lo chiederemo per capire anche la vostra opinione ma nessuno mi sembra capire doveva essere uscita dalla crisi anche quando ha sculato al 93esimo col Frosinone dai ragazzi però ragazzi non è che si parla che la Juve sia uscita dalla crisi certo è che ieri sera dopo aver perso al 90esimo sabato ieri hai avuto una reazione specialmente scusami Dario, domanda quando l'hai avuta la reazione? quando la Lazio è sparita dal campo? quando la Lazio è sparita? non stava palesemente in piedi era sulle gilocchia esatto con un allenatore secondo me ieri si è dimostrato molto ridicolo sono d'accordo e aspetta e io mi ricordo anch'io sono d'accordissimo attenzione io mi ricordo quando veni qui la promo toppata no no però ce l'ho per te quando veni qui che gli amici di Tutto Sport facevano le copertine su Tudor perché Allegri doveva andare via perché faceva schifo nel momento della crisi 1 della Juventus di quest'anno io ti dicevo Tudor non è pronta alla Juventus e voi tutti eh ma è sicuramente Mario D'Allegri ma un allenatore dice Casale non ha potuto giocare perché gli è nato il figlio cioè nella scala 1 a Mazzari siamo magnitudo Mazzari 9.0 però scusami ma però scusami dall'altro lato hai un allenatore che ti ha detto che all'intervallo ha suggerito ai suoi calciatori di correre verso la porta avversaria ma Daniel bravissimo bravissimo Gabriele ma uno che dice una cosa del genere da portare in giro in bavagliato bravissimo ma te non hai capito che lo sta facendo bene tu per quello bavagliato no Baldi ma scusami perdonami ma io sono d'accordissimo con Gabriele anche perché non ti puoi non puoi pensare comunque che per quella frase di Tudor non sia pronto un allenatore ad essere un allenatore alla Juve attenzione non la posso prendere come giustificazione quello poco ma sicuro però ma la differenza è una mano la differenza è che Allegri vi sta prendendo per il culo come voi odiate lui lui vi sta prendendo giustamente e bellamente per le mele per un momento semplice per un qualcosa di semplice per non darvi la soddisfazione di poterlo attaccare in maniera costante noiosa e anche pelosa da come fate all'inizio dell'anno quello posso dirti che ha sempre fatto così ci ha sempre preso in giro no no ma ora proprio lo fa anche in maniera stessa e lo fa giustamente sì ma poi ma si vedeva comunque io volevo solamente dire se tu mi paragoni qualsiasi comunque allenatore potrebbe andarmene sulla panchina bianconera in questo momento ieri se proprio vuoi vedere visto che ero a Torino vedevo un po' la differenza tutte e due sinceramente tutte e due le squadre erano molto agguerrite e volevano comunque fare gol ovviamente il primo tempo è stato veramente un disastro da parte della Juventus però si vedevano comunque le reazioni di due allenatori che erano completamente diverse dove Tudor comunque invitava i suoi ad andare dall'altra parte del campo a far gol a finalizzare comunque mentre il nostro era contentissimo quando facevano il compitino giusto quindi si facevano quei totti di passaggi ma poi se non passavano la metà del campo tranquilli calma calma ma ragazzi mi era saputo su un piatto da giro 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 ma lei ha vinto 10 volte tanto di quello che ha vinto Tudor ha giocato 10 volte tanto di quello che ha fatto se Allegri sta zitto mentre tu non si va anche in Zaghi Vilippo si sbraccia eppure hai portato la selenità la dove l'ha portata ma tu hai detto bene il momento hai usato un tempo verbale azzeccato ha vinto basta il passato allora vi posso vedere la frase incriminata scusa non dove ne fai discorso sugli scudetti avete vinto se tutti gli anni bisogna zerare non bisogna considerare la storia che uno ha no la storia va considerata adesso è un'altra Europa è un altro mondo rispetto alla Europa non è che la storia del passato continua necessariamente nel futuro o può essere scusami nel presente o può essere il futuro questo in tre anni ha vinto un cazzo bravo bravo è ancora lì perché riscuotere il credito che ha avuto in passato nel suo primo mandato altrimenti non sarebbe lì Davide vi faccio commentare la frase di Tudor e poi a questo punto l'avete tirata fuori voi tutti torno anche su quella di Allegri di ieri che ha fatto un po' infastidire qualche tifoso fammi commentare l'incommentabile ma non è che è infastidito è ridicola cioè lui di Tudor dice quando la Juve gioca così guardate qua da tutto sport non perché sia tutto sport ridico ragazzi dice dei miei quattro tempi ne abbiamo fatti tre molto bene nel secondo tempo di oggi la Juve aveva un'altra mentalità poi loro hanno giocatori che valgono 100 milioni sono pazzeschi dobbiamo migliorare tutto è un calcio più fisico rispetto a prima pian piano miglioreremo poi dice loro oggi erano diversi non avevano lo stesso spirito di sabato oggi hanno accelato perché sentono il profumo della finale quando la Juve gioca così può giocare alla pari contro Real e City beh dobbiamo anche commentare l'incommentabile perché questa è una roba incommentabile commenta tu Davide per favore ma cosa c'è da dire di fronte a una bestiata del genere cioè con tutto il rispetto spero che non ci stia seguendo in questo momento no ma se ci segui almeno ne deve essere consapevole era ironia spero no 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 io ricordo solo al signor Tudor che un suo ex allenatore Fabio Capello che ha portato il Real Madrid alla vittoria dopo anni di astinenza due volte a distanza di dieci anni è stato mandato via con l'accusa che non gli piaceva al presidente la maniera in cui Real Madrid vinceva le partite che mi sembra Capello un allenatore che abbia fatto scuola ad un allenatore come Allegri per cui come potrebbe essere accostato anche solo a Real Madrid anche in una frase di Paragone e poi al sito di Guardiola non ne parliamo neanche a parte che secondo me Paragone Davide non ci ha fatto comunque ma perlomeno relative alla partita di ieri ecco perché ma ragazzi ma in realtà anche Tudor è un tifoso della Juventus e quindi deve per forza tirare l'acqua lì perché ovviamente ho capito ma non ci fa una bella figura dal momento in cui tu alleni la Lazio che costa la Juve dimmi all'allenatore che si riesce a comunicare bene dimmene uno beh sicuramente meno peggio di questo adesso non lo so fai la vista in Zaghi ragazzi prima di Porto l'anno scorso facevo le conferenze stampa perché non sapeva parlare ok però da Porto adesso tu passa di 13 mesi ed è migliorato infatti ma non ti so si può sempre migliorare mi diceva la mia ex quando mi lasciava e poi ci si rimetteva sempre insieme ma infatti è ex infatti è ex però si può sempre migliorare però prima in Zaghi poi lascia fare Allegri che non lo considero neanche Pioli è un comunicatore ma quanto meno 0 a 0 poi Rossi 0 a 0 ma non vuol dire che perché gli altri sono questo è un discorso diverso noi siamo una classe di giornalisti e si fa schifo tutti e ci si mette tutti dentro te lo dico io perché non si sa fare le domande perché siamo succubi degli uffici stampa me compreso in altre situazioni io non mi assolgo io non mi assolgo no ma in generale tu fai tutta l'erba un fascio perdonami sono una piccola cosa fai tutta l'erba un fascio non è che tutti gli allenatori fanno così oppure ce ne so si hai ragione ce n'è più di uno però che cosa facciamo perché ha fatto così 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 allora è giustificabile davanti a una boiata del genere glielo deve dire avrebbe potuto dire sembra quando gioca così sembra la Juve di quanto poi le gaviglia gli scudetti bravo non dire al Madrid del City dai bravo davanti a una boiata del genere puoi replicare ma siccome per frequentare certe zone e per avere certe notizie non glielo puoi dire non glielo dici e quindi stai a fare stiamo qui a parlare di questa frase di Tudor che è una boiata perché appunto ha delle simpatie in casa Juventus è fine però non ha delle simpatie è Gobbo Marce allora fine ci siamo già dati la risposta polemica conclusa io prego vai Manu no se vuoi io ho dei messaggi ok allora c'è un amico da casa che dice chi non vinceva contro la Lazio di ieri ah chi non vinceva contro la Lazio di ieri e questo è Giancarlo Juventino anni 60 e poi dice mitico caldello beh la Lazio ha fatto un buon primo tempo alla fine ha fatto un'injonità ha consegnato il gol alla Juve dall'in poi la Juve ha fatto una partita di cortomuso Allegriana ha vinto normalmente non ha fatto niente di eccezionale però non mi aspettavo il secondo gol Davide sinceramente quindi grazie a Dio si è scatenato anche Brabus la Lazio non è che una squadra molto rassicurante cioè se perde di autostima è capace certo quello sì io pensavo che rischia anche di prendere il terzo poi alla fine quello sì poi abbiamo Paolo che dice il maestro Tudor e le sue frasi da libro cuore e poi ancora Francesco per sostituire Allegri va bene anche una capra addirittura e poi Claudio buonasera a tutti una domanda per Baldi cosa vi ha fatto di male Gasperini per insultarlo tutta la partita? io penso che sia un dissing che nasce da tempo è una non simpatia nostra e sua e viceversa è un odio costante poco anche sportivo che nasce da un Genoa Fiorentina 3 a 3 dove lui ha perso la Champions League ai danni della Fiorentina con tripletta di Mutu e da lì è iniziato quest'odio tra noi e lui i tifosi gli dicano delle cose lui ne risponde altre di certo non c'è un bel clima però io guarda siccome rispondo a questa domanda e siccome ho letto che c'è una grande polemica dei tifosi del Milan nello stadio di Firenze nei confronti di Florenzi secondo me quando uno va in campo un conto è offendere a livello appunto come è successo se fosse successo nel caso di Acerbi quindi si sta parlando del colore della pelle dell'etnia nel caso come succede negli stadi anche a Firenze nei confronti penso di Vlaovic penso nel passato di Vlaovic un conto è dire tu fai schifo sei basso fai ridere sei brizzolato scusami ti faccio questo esempio perché c'è questo Gianluca su Whatsapp che scrive ah continua sì sì ma adesso li leggiamo tutti dite al conduttore che l'Inter in Apnea toglierà il record punti al gobo di Conte Apnea e ride se ne frega il record è un trofeo in Apnea saranno in studio perché il conduttore pazza di truffa non ho capito cosa vuol dire in italiano Bellingham a Torino non avete un euro da spendere un'attore di me Cantella sei pronta a vedere l'Inter vincere per dieci anni come pensi di risolvere la pochezza della Rubentus fammi sapere non la devo risolvere io ci sarebbe uno che viene da Napoli che dovrebbe lui pensarci la fidanzata di baldi sta facendo un giro di trifonata alla sua ex per capire se è meglio non penso in realtà gli ho proposto appunto di far vedere Mandragora un eventuale nuovo figlio ma non l'ha accettato quindi purtroppo è andata così no però guarda per chiudere volevo parlare del discorso delle offese in campo collegandomi a questo cioè un conto è andare su quel discorso se poi si va sui disporsi personali sono neanche parentele secondo me quando guadagni talmente quelle cifre te ne devi sbattere i coglioni scusate intanto che stai dicendo a nastro ti spiego il motivo perché io sono ho una leggera gobba che si sta infittando ma tu sei gobbo è vero una leggera gobba a livello lo so ho la scoliosi ma me le vanto non è un problema nel senso metaforico no 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 ma io non che non metaforico c'ho proprio la roba no non quello il senso metaforico che ti fila i tuoi ti fila i tuoi ti fa vivere però sta parlando Cristo Dio no no ma cosa che c'ho ma mica fisicamente sto cercando di finire un discorso per andare avanti poi c'ho i piedi tanti da quando sono nato mi chiamano 10 e mezzo mi chiamano 10 e mezzo 10 e un quarto cosa c'è la luce valgo poi aspetta gli devono a Florenzo gli abbiano detto battute sulla mia romanità qui c'è lei che parla come Allegri sai che tu mi fai verso tutte le porte quell'altro è uguale a spirale C io la voglio a spirale C perché offendete la toscanità offendete il morno Florenzi puoi dare la ricamata no dario però non l'ho capito poi te lo chiedo in pubblicità come mai io sono Allegri sei Allegra forse pubblicità reflusso gastrico trio di geracide reflusso controlla l'iperacidità prevenendo i bruciori e i dolori di stomaco trio di geracide reflusso fai pace con il tuo stomaco e in caso di cattiva digestione trio di geracide di gestione tre azioni in una sola bustina la passione per lo sport è personale ma la passione è la stessa ecco perché sosteniamo di grandi e piccoli club in Italia perché per noi la passione fa la differenza pezzo un punto sport allora rieccoci dai legui qualche messaggio da youtube ragazzi secondo me Tudor non ha cambiato nulla la Lazio continua ad essere una squadra senza qualità come il Napoli Wesley ha ragione Baldi però tranquillo che Florenzi è grande vaccinato e quell'efficiente del Franchi se l'è messo in tasca Enrico eh ma le andava lui davanti alle telecamere eh sì c'è ragione quindi grantella critica ma non propone soluzione quando gli si chiede delucidazioni scappa patetico e vuoto che cazzo stai dicendo ma devo trovarle io le soluzioni sono io giunto lì sono un dirigente della Juventus devo trovarle vengo pagato io per trovare per trovare le soluzioni ai disastri che combinano io invece gli darei carta bianca anche perché insomma mi sembra bello quel programma sì non è carta bianca anzi è sempre carta bianca pensavo l'arena non è l'arena prima di domani è quello che anticipa non è carta bianca è sempre carta bianca quarto grado esce pure se vuoi e poi c'è un po' sta al sole questo è sui rete stiamo parlando dei programmi mediaset della sacra rete volevo soltanto interromperti perché mi stai dando un po' fastidio ok scusa grazie allora volevo leggere Sbaldi senti la diffusione della Fiorentina la deve smettere ti ricordo che quando Conte allenava la Juve c'erano parole forti verso la figlia ok i fischi nei confronti della morte di Giobarone domenica a Roma oppure quelli che fischiano la storia e lo prendono per il culo non è la stessa cosa no perché se si comincia a giocare con i barati si finisce più no no io vi cito le case perché io guarda posso dirvi la mia sono rimasto emozionato dal minuto di silenzio a Napoli e dal minuto di silenzio di San Siro sono rimasto emozionato specialmente da quello di San Siro perché sia l'Inter soprattutto l'Inter perché lo stadio era prettamente di tifosi dell'Inter che non avevano niente a che fare con un dirigente della Fiorentina bellissimo anche il discorso delle luci giù e quant'altro un silenzio tombale che dovrebbe essere la normalità che dovrebbe essere la normalità ho sentito altre partite tra cui Lazio e Juventus dove ci sono stati dei fischi e quindi se mi si viene a dire allo Stato di Firenze hanno offeso la figliola di Conte e allora hanno offeso anche a storie che nello stesso discorso ci ha lasciato ma infatti è un discorso che va troppo se si va a offendere persone che hanno ovviamente dei problemi bambini e quant'altro sono degli stronzi esatto e basta perché vengono presi per tagli Gapro mio grande amico mi dice Baldi quanto ha sballato prima per fortuna che la viola ha vinto ragazzi allora io volevo soltanto la domanda è se l'ho uscito dalla crisi voglio partire da Manu dopo però prima erano le parole sulle quali si soffermava Cantella e dalle quali siamo partiti anche ieri per parlarne non sono tanto il momento negativo di peso da tutti i primi ma è questa perché gli è stato a media ma ieri quando sei entrato all'intervallo cosa hai detto per svegliare la squadra le parole sono queste il calcio è semplice ma sono quelle cose che sono più difficili da attuare ho detto ai ragazzi all'intervallo di correre verso la porta avversaria perché non cosa avremmo creato Manu prima di te Gabri perché ha tutta la sua teoria sì vai Gabri la mia teoria è che evidentemente lui prima avesse detto ai suoi calciatori di correre verso la propria porta perché perché se all'intervallo gli ha detto di correre verso la porta avversaria che è una banalità è un'ovvietà perché è quello lo scopo del gioco del calcio devo pensare che evidentemente prima gli aveva detto di fare il contrario e poi mi domando lo ha scoperto solo adesso e poi mi domando e vi domando ancora c'è bisogno di pagarlo 9 milioni di euro netti a stagione perché dica ai suoi calciatori di correre verso la porta avversaria non lo capisci non lo capisci ma non lo capisco perché è una stronzata mamma mia non lo capisci perché lui ti prende in giro lui ti sta dicendo io sono stufo di farmi prendere in giro da lui no perché la prima presa in giro la fa a chi gliela dice perché a chi gliela dice gli avrebbe dovuto dire ma in che senso ma in che senso perché mi chiedono già lui a quando gli imitazione di Baldi ma in che senso appunto se io facessi io dovessi cioè gli dovessi prendermela se io dovessi facessi se tu me la dovessi prendermela Fantozzi parti lei ma che si sta succedendo Baldi che imita Baldi ma Baldi sì Aleandro però sta imitarmi in questo momento no no Aleandro Baldi detto questo salutiamolo Aleandro però Aleandro Florenzi pure no ma quello è Alessandro quello è Aleandro Rosi Alessandro Florenzi però lei non sa niente dei drammi è meglio io so di non sapere come diceva Bonzoni adesso per chi ci guarda poi in replay è mezzanotte 06 dopo la soluzione ci vanno pure in replica ho già pronte tutte le grafiche di bestie benissimo per chi ci guarda chi riapria su youtube ho un rebus politicamente scorretto io ho deciso che al conduttore darò solo del lei da oggi fino alla puntata di domani perché io ci sono anche domani quindi darò del loro ma c'è anche il domani darò del lei al conduttore allora al conduttore lei non sa niente di pallone quello l'abbiamo capito però io dico se io mi dovessi offendere tutte le volte che lei fa il mio verso non guadagnando la cifra che fa Florenzi dovrei non essere più qui ma torno sempre perché ognuno deve essere anche un po' simpatico a suo modo cioè tu hai fatto tutta sta supercazzola per dirci in cazzo poche parole no 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 io non ho detto non ho detto lo dico io Manu le parole di Allegri sono giustificabili la Juve è uscita dalla crisi? allora ti rispondo scusatemi la Juve è uscita dalla crisi beh è una domanda ovviamente penso sia uno scherzo nel senso non si dovrebbe neanche fare questa domanda è troppo presto se devo rispondere se proprio devo rispondere rispondo no ovviamente per quanto riguarda invece le parole appunto di Allegri dove gli hanno chiesto cos'è che hai detto ai giocatori durante l'intervallo perché si è visto proprio una netta differenza o meglio il passaggio e poi la finalizzazione lui rispondo ho detto di andare verso la porta avversaria ma secondo il mio punto di vista io non la penso come Dario o perlomeno avrei voluto pensarla come Dario nel senso che secondo me ha proprio detto così cioè questa è la cosa no no ragazzi va fatta scusa scusa no no ha proprio detto secondo me così nel senso che sembra una cavolata ma lui continuava a dire ai giocatori e poi ripeto essendo comunque allo stadio li vedi proprio poi sto molto attenta comunque a queste dinamiche perché sto attenta molto appunto ad Allegri perché voglio capire come mai la squadra non recepisce non recepisce ma gliel'avrà detto in allenamento gli avrei stare a zitto no perché continuava a dire continuava a dire comunque lui era molto attento ai passaggi ma lo fa sempre questo è una cosa che lui fa sempre e molto probabilmente visto che nel secondo tempo c'erano i passaggi ma non erano così puliti come avrebbe voluto lui ovviamente poi si è visto che i ragazzi andavano verso il fronte avversario per ultimo Davide se il fatto se la Juve sia uscita dalla crisi o se questa vittoria possa perlomeno far vedere una luce in fondo ad un tunnel cioè io te la marita l'ampliamola Davide cioè è chiaro che la Juve è una forzatura dopo una partita vinta non può essere uscita dalla crisi che la taraglia da nove partite ma se poi dovesse vincere anche con la Fiorentina e dovesse confermare quel blocco che l'ha fatto vincere questa partita a quel punto i suoi due obiettivi potrebbero raggiungerli? Allora io sono propendo più per la tua seconda opzione nel senso è troppo presto per dire non basta una partita per dire se avranno almeno due partiti per dire sono una squadra uscita dalla crisi però quantomeno avere tenuto vivo e anzi avere indirizzato quello che rimane tuttora l'unico obiettivo credibile della Stadione cioè per il momento andare in finale Coppa Italia la può anche provare a vincere la Coppa Italia secondo me può creare quella giusta serenità che consente nell'immediato futuro alla Juve di riprendere a fare risultati anche in campionato detto questo cioè per me come l'ho detto ridetto e stradetto per me il campionato della Juve non ha più niente da dire perché io non ci credo neanche se me lo fate vedere che la Juve rimanga fuori dalla Champions per la Coppa Italia invece ha indirizzato la qualificazione alla finale io volevo solo dire una cosa la lucidità di carriere di stasera è disarmata infatti tu sembra che sei marcio come di solito è marcio lui perché fa un caldo ragazzi siete possessati non c'è alcune dalle è verissimo allora Stefanino abbiamo capito che non sta particolarmente simpatico Cantella Cantella parla critico offende dice no aspetta chi non la pensa come lui ma non propone un nome uno che secondo lui avrebbe fatto meglio aspetta fai parlare meglio ma Cantella ne avrò fatti 120 esatto ma poi basta è il primo pinco ma tu puoi anche farlo un nome ma se poi lui ti dice no non va bene allora è inutile che continuiamo una discussione dove non c'è un equilibrio quindi Cantella io ne faccio addirittura due per me il primo si chiama Antonio Conte il secondo non potendo arrivare probabilmente ad Antonio Conte per un fatto è di ingaggio ma ancora di più forse per costruzione di squadra dico Tiago Motte ok anche perché se questo signore adesso obietterà perché li conosco io ma questo è il signore? no questo questo è un grande facciamolo vedere la S infatti sta la S infatti sta per signore signora Negri no no signore dottoresse dottorese dottorini no detto ciò siccome lui adesso obietterà e poi ti voglio vedere con Tiago Motta se non vince sei così sicuro che Tiago Motta vinta ma noi sappiamo che la Juventus sta attraversando un periodo difficile ok e allora va bene che la Juventus continui a non vincere anche per due tre anni però se costruisce qualcosa visto che la società parla di contenimento dei costi di calcio sostenibile e di progetto giovani però non vincere lo scudetto permettimi di no magari nella Coppa Italia si magari nella Coppa Italia si e quindi un allenatore come Tiago Motta se costruisce e se fa decollare il progetto per due anni può pure non vincere niente poi lui può essere non d'accordo però tu comunque un nome l'hai fatto che poi tra l'altro è il nome che stai sponsorizzando a diverso tempo tra l'altro io vorrei soltanto dire una cosa però con Allegri scusami non si costruisce niente i giovani si distruggono per gli indiz io volevo solo dire una cosa tra l'altro e poi costa quattro volte in più di Tiago Motta volevo solo aggiungere una cosa a chi ci segue da casa che è il parere di Cantella Gabriele Cantella poi c'è il mio parere siamo tutti esseri umani che hanno un parere c'è il parere di Maria Quinta il parere di Davide Carrieri Baldi ieri c'era Civoli De Boni Collovati tutti hanno un loro parere non è che siamo come i quotidiani che seguono una linea e tutti dobbiamo andare come dei cavalli seguendo quella linea o come i tifosi con i paraocchi che devono seguire una linea no perché qualcuno no però c'è qualcuno che ci scrive guarda mano scusa mi possesso un messaggio lo leggo io mi permetto di leggere il nome che dice è Diego dice siccome noi questa trasmissione la vediamo da molto tempo ultimamente è difficile seguirla perché si parla solo di mandarvi all'allenatore parlare male della Juve occorrerebbe essere più oculati questo però è già un messaggio che ha dei canoni al quale noi rispondiamo volentieri noi diciamo Gabriele è la nostra idea Collovati ieri gli ha fatto perdonami Gabriele il francesimo un culo così perché lui non la pensa come lui dice che il problema della Juve è il giocatore ma qua non è che il parere di Cantella è il parere di tutti anche perché Baldi che adesso ci fai i cazzi suoi no no in realtà mi hanno chiesto ma perché non mi hai mandato le pacelle io fatte non dovevo farle io Baldi ad esempio ha un'idea diversa da Cantella cioè ognuno non è che io è il tuo studio di tuo carriere per dire questo cioè vedi io poi perché mi arrabbio leggi sto messaggio Cantella si merita del Neri e Zaccheroni perché questo sarà il futuro con l'interista Tiago Porta quanto guadagnavano del Neri e Zaccheroni quanto guadagnavano e in che periodo sono arrivati e soprattutto sono arrivati come i salvatori della patria con l'allure di quello che tornava e subito faceva vincere di nuovo la Juve no ma io ricordo questa Juventus poteva vincere qualcosa secondo te guardando come sono andati le stagioni la risposta è no a me non interessa a me non interessa allora restava Pirlo che costava dieci volte in meno è quello che stavo dicendo e ha portato a casa due scolapasta questo neanche quelli bravissimo stavo proprio dicendo questo ci tenevamo Pirlo perlomeno allora restava Pirlo e l'abbiamo massacrato l'hanno massacrato tutti ma non andrà bene ma non andrà bene al tipo di aiuto la scolapasta non andrà bene certo per carità certo però perlomeno va appuntata a calcio per poco e poco c'è già prima l'hai fatto quasi tu no c'è anche che stai lavorando eh? non andrà bene siamo in Tremiland per fortuna le figlie e i garçons le garçons e le fill si fanno per vivere insieme c'è normale per chi soia d'accord rompi il ghiaccio con Vivident Xelit 100% Xelitolo Vivident Vivi Fresh al 100% se ti viene fame a lavoro con gli amici o in famiglia entra in Glovo e scopri un mondo di possibilità gastronomiche piatti salutari locali asiatici e molto altro con promozioni ogni giorno al 2x1 o con sconti fino al 50% scarica Glovo e ordina cibo spesa e tutto ciò che vuoi Glovo tu ordina ci andiamo noi il futuro affrontalo con la rete mobile più veloce d'Italia secondo Ucla 150 giga e chiamate illimitate a 7,95 euro al mese per superare ogni tipo di sfida anche con te stesso con Fastor Mobile tu sei futuro ti aiutiamo a scegliere la casa dei tuoi sogni sì perché noi di Tempo Casa abbiamo a cuore i sogni di tutti anche dei clienti del futuro Tempo Casa ed è già casa fermi tutti ma il mutuo ci pensa più mutui casa c'è una novità Caffè Agostani dedicata a te colorata come piace a te risparmi due volte sulla macchina e sulle capsule chiedi Caffè Agostani nei migliori negozi specializzati Caffè Agostani espressamente per te a casa come al bar rompi il ghiaccio con ViviDen Xelit 100% Xelitolo ViviDen Vivi Fresh al 100% se ti viene fame a lavoro con gli amici o in famiglia entra in Glovo e scopri un mondo di possibilità gastronomiche piatti salutari locali asiatici e molto altro con promozioni ogni giorno al 2x1 o con sconti fino al 50% scarica Glovo e ordina cibo spesa e tutto ciò che vuoi Glovo tu ordina ci andiamo noi il futuro affrontalo con la rete mobile più veloce d'Italia secondo Ucla 150 giga e chiamate illimitate a 7,95 euro al mese per superare ogni tipo di sfida anche con te stesso con Fastware Mobile tu sei futuro ti aiutiamo a scegliere la casa dei tuoi sogni sì perché noi di Tempo Casa abbiamo a cuore i sogni di tutti anche dei clienti del futuro Tempo Casa ed è già casa fermi tutti ma il mutuo ci pensa più mutui casa rieccoci allora ecco le quote in comparazione di Juve Fiorentina Juve favorita nella partita di domenica sera un'ottanta quattro battue un'ottanta due star casino un'ottanta sisal tre cinquanta sisal tre quattro cinque star casino tre cinquanta tre battue il due quattro ventisette battue quattro venti star casino quattro cinquanta sisal come finisce Davide? vincerai Juve Juve siccome sei un pochettino è settata non penso nel miracolo del 17 dicembre dell'anno del covid che si fossi italiano giocherei ai minimi termini anche perché ragazzi c'è la coppa la Fiorentina poi c'è la coppa giovedì ma soprattutto ragazzi Artur è tornato inguardabile se vi interessa sapere perché era mai stato tornato per cinque mesi è stato guardabile molto guardabile Artur è inguardabile stasera è stato inguardabile l'altra volta contro il Milan ha detto che era fuori per scelta tecnica Nico González sembra il lontano fratello di Nico González quindi insomma bisogna vedere Milenkovic se si ricorda di fare il difensore oppure no Manu secondo me finirà con un pareggio e poi per rispondere comunque alla battuta che non non ha specificato ai giocatori di andare verso la porta avversaria secondo me l'ho messo quindi speriamo che lo dica magari questo all'intervallo però rimarrà secondo me il risultato un pareggio 0-0 proprio fisso secondo me ho detto vince la Juve secondo me va bene dai basta parlare di Juve mi sono letteralmente rotto anche se è l'argomento più divisivo della storia Cantella tu sei l'uomo più divisivo vai leggili per chiudere allora sì abbiamo Bruno Juventino da Torino che dice chi se la prende con Cantella si merita altre 300 partite di Alexandro da titolare e capitano grazie Bruno e poi ancora c'è Max che ce l'ha con me con Cantella dice Iaquinta e Cantella finti tifosi Iaquinta e Cantella imbarazzanti con il loro partito preso grazie Max meno male più tifosi di noi meno male che sei tu il vero tifoso sì e poi ancora sì infatti e poi ancora che permette che permette che si si urini sulla storia e sulla e sulla tradizione e sul blasone della Juventus ti sta bene poi ancora Raul sei un vero tifoso sì concordo comunque con Gabriele poi c'è Raul che dice ma è possibile tenere ancora un allenatore come Allegri che non sa tenere un gruppo unito e motivarlo oltre che dare una parvenza di bel gioco è vergognoso tutto questo dove è finita la vera Juventus ed è d'accordo appunto con Cantella qual è stato l'ultimo gruppo unito della Juventus ve lo chiedo a voi l'ultimo gruppo senza Allegri si parla di gruppo quella di Pillar un gruppo unito la Juventus è andata di quest'anno forse da quando te la faccio io l'ultimo gruppo unito prima che arrivasse Ronaldo no è stato l'ultimo a Juventus quella che ha fatto i 102 punti ce la conta ancora quanto era 104 quant'era 104 102 102 10 anni fa c'è ancora un conto quello è stato l'ultimo prima di Allegri allora prima di Allegri di gruppo vale stato vabbè ma due finali di Champions League quello è un grande gruppo che va in finale lo dico stampare te l'ho chiesto a te è vero quello ma a me non interessa di ascoltarlo no non ti stavo per ascoltando scusate ragazzi ma secondo la narrazione che lo stesso Allegri fa di quella squadra in teoria non dovrebbe contare perché perché lui ha detto che quella squadra non poteva non vincere perché era più forte esattamente come l'Inter però l'ha fatto bene anche l'Europa dai ha fatto due finali di Champions ma certo quando è chiamato lui a metterci qualcosa di più non ce lo mette secondo il suo stesso ragionamento va bene ragazzi devo chiudere l'argomento devo chiudere l'argomento Juve dobbiamo parlare anche un po' di Inter qualcuno prima si è ravveduto se l'è presa si è storto il naso perché ho detto che l'Inter sta boccheggiando non è in apnea l'Inter giusto Carrieri come? non è in apnea l'Inter no sta maramaldeggiando in una fase di campionato in cui è ufficialmente in corso il countdown cioè prima c'erano tutti i coglioni che la partita valutinese è la più importante adesso siamo passati al countdown certo che lo è infatti lo è ok Roberto Rizzi Pizzi legano le domande della chat le leggo tutte posso dire solo una cosa c'è Crivelli che ci dice Baldi la tua fiore quest'anno fa il double Coppa Italia mi tocco con due mani se vuoi Conte non sei Coppa a limite Zidane Daniele Picchio ma Zidane ci mancherebbe altro lo scontro diretto con Milano e Bologna ma Zidane non ci viene in questa Juve dirà il futuro di Allegri Giuliano Catella non la racconta tutta vergogna quello è Daniele che ti prende in giro voi i coppi dovete mettervi in testa che il vostro periodo di dominazione è finito cosa siamo barbari è il gioco dei master si abbiamo colonizzato domanda di diventieri visto che Motta sembra essere quello in polperi dopo Allegri cosa ne pensate di Juric per la panchina che può stare benissimo allora ragazzi allora se Juric è per la panchina della Juventus si può veramente chiudere la lo fa apposta parlate di grandi squadre tipo il Milan Antonio Roberti tra un po' ci arriviamo no no aspetta rileggi parlate di grandi squadre come il Milan oh oh come mai io ve lo dicevo sei mesi fa come mai si parla di quella aspetta guarda che guarda che se non vince l'Europa League lo spediscono su Marte e sbagliano e sbagliano non so se sbagliano c'è di meglio c'è di meglio anche lì c'è di meglio c'è sempre di meglio ragazzi via qua c'è una mezza idea di spediarlo sul Marte in ogni caso poi secondo me andrà via comunque allora però stiamo un attimo sull'Inter poi passiamo al Milan perché in realtà l'idea devi parlare del Milan e di Pioli perché il titolo è fatto su Pioli chiaramente per dopo guarda Davide lo voglio dire per ultimo Gavri tu hai notato un po' di flessione da parte dell'Inter sì però credo che sia fisiologico un po' perché secondo me è un piccolo contraccolpo psicologico dopo l'eliminazione in Champions lo hanno lo hanno subito ma già da prima un po' in flessione forse ecco già da un po' prima però insomma nonostante la flessione continua a vincere tutte le partite credo che sia fisiologico e sia accettabile anche perché ormai il vantaggio è talmente ampio che come diceva Davide prima ma si sta solo aspettando l'ufficialità Dario? Ragazzi ma allora che l'Inter finisca 85 96 o 92 non è basta che ne faccio uno o più della seconda non me ne frega niente ma ragazzi ma l'Inter adesso sta facendo una gara su se stessa a quanti punti fa di più perché il campionato è chiuso tranne nella testa di quello che gli manda l'attuata e le grafiche su come il Milan riesce a arrivare primo ma chi? ma veramente? esatto esatto quindi facendo una gara su se stessi hai anche meno stimoli io in Zagli lo sto apprezzando perché ho visto gli ho visto far giocare Sanchez per scelte obbligate gli ho visto entrare Aslani in maniera un pochino più efficace apprezzo queste scelte qui è chiaro che ha un calo abbastanza netto ed è altrettanto chiaro ma soprattutto negli uomini che hanno tirato la carezza i centrocampisti gli attaccanti tipo Lausaro ha staccato un po' la spina come è giusto ma è stanco perché sta giocando no no e io ti dico non capisco perché sia uscito arrabbiato non lo capisco magari è arrabbiato con se stesso sì esatto c'è un'altra partita in questo momento quando l'unico obiettivo che hai è alzare questo dannato scudetto che ormai ti porti dietro da mesi secondo me sei il trascinatore sei l'uomo simbolo di questa squadra sei un giocatore che sempre ti acclamano anche quando non segni io faccio un bel applauso al pubblico che mi mette a sedere sulla panchina e mi incazzo un panchina con me stesso poi vi ripeto si sta parlando di delle polemiche inutili di una squadra che ha dominato i campionati lungo e largo vinto le partite più difficili che aveva lottato contro le offese di chiunque specialmente dei milanisti che si appigliano a qualsiasi cavillo arbitrale secondo me fanno tutti gli avvocati di lavoro avvocati e magistrati cos'è che fanno me lo dice gli avvocati e magistrati sono tutti senti a me me lo dice a noi vanno a giro con il regolamento alla mano secondo me il venerdì viene la squadra con le tavole in mano nel 2002 c'era questa legge che diceva che se Turam in proiezione ortagonale avesse messo il piede davanti al difensore era fuori gioco e quindi Marotta League sempre toccasca non solo sui social anche nelle trasmissioni anche nelle trasmissioni che poi se ci parli normalmente secondo me non sono neanche la differenza tra imputato e indagato ma lascio fare l'inter quest'anno ha sconfitto anche il complottismo ha sconfitto quello che la Juve ha sempre avuto contro ovvero tutta l'Italia e tutto quel sistema lì quindi ragazzi cosa gli devi dire a Inzaghi gli devi dire bravo gli devi dire sei stato un grande allenatore per come hai gestito il gruppo perché quando tutti volevano che giocassero fra tesi tu non l'hai messo in campo quando tutti ti dicevano metti quello in difesa lui giocava con la sua difesa al costo di sbagliare lui e ci si è sempre messi prima una persona però una piccola tara su questa stagione c'è che gli altri hanno fatto schifo no 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 dopo la finale di Champions siccome non avevi un sorteggio impossibile agli ottavi no ma la Champions come la gestita la Champions vuoi per scelta è vero però è stata secondo me una piccola pecca no ma Manu vuoi per scelta vuoi per strategia secondo me la Champions è stata gestita male dall'inizio quest'anno quello potrebbe essere però sono d'accordissimo comunque con te però è stata una volontà di buttare tutto sul campionato sì no ok ma per dire scusami Manu al primo turno è stata stata scelta poi dagli ottavi in poi non è che lei snobbata è stata gestita un po' male con la tenetica non l'hai snobbata no come no perché a Bologna hai giocato con la formazione titolare no a Bologna hai giocato con tutti il centriamo titolare aspetta no non mi farà aspetta hai giocato con il centriamo titolare no se non l'ha messo perché è rientrato da un infortunio sì quindi ha bisogno di un po' di minutaggio ha bisogno di 70 minuti sì perché erano 20 giorni che non giocava ho capito ma volevo dire sono un rapporto quindi poi Frattesi Aslani gli altri non giocano mai col Bologna con più 27 punti però sono tessi la differenza è quella l'ultima mezz'ora hai finito la partita con Frattesi Aslani e Klaassen sì hai perso perché l'Atletico ha vinto adesso non hai partito con quelli a Bologna per avere più preservati a Madrid sapendo che era una battaglia e quindi è stata gestita comunque male ovviamente non è che Bologna c'è anche se per avessi perso a Bologna cadeva il mondo semplicemente con l'Atletico anche per come si era messa dovevi passare lo stesso perché avevi vantato a Madrid al di là della partita di Bologna dai l'ha vinta anche l'Atletico ci sono anche dei meriti dell'Atletico dai però è stata come detto tu gestito comunque un pochino male giusto questa piccola pecca non è stata una statione perfetta sì ovvio sì però quasi perfetta io infatti concordo comunque con tutto il discorso di Dario però volevo fare una domanda comunque non è che magari questi giorni quindi l'Inter boccheggia voglio farlo a tutti voi l'Inter boccheggia anche agli amici da casa ovviamente l'Inter boccheggia ma non è che sarà come appunto quindi premessa concordo con tutto ciò che dice Dario quindi che è stata una Inter perfetta no? o perlomeno quasi perfetta non si può dire niente a questa Inter se boccheggia un attimo vabbè pazienza però non è che magari è stato il caso comunque di Acerbi che ha faticato tra virgolette mentalmente e psicologicamente ma qual'era dopo la partita con l'Atletico a Acerbi? no sto parlando adesso di questi giorni questi giorni c'erano due settimane in sosta sto parlando di questi giorni l'Empoli è una squadra che comunque si difende che è giocata in squadra ma il mio discorso non era legato né a prima di accedibile dopo io parlavo che l'Inter è da un mesetto che non sta più correndo come vorremmo e allora di che cazzo parliamo dell'Inter? appunto parliamo del Milan ok chi va alla Juve dai Copminers 27% Calafiori 15% si avrebbero tutte e due ma secondo me non ci va nessuno dei due nessuno dei due Baldi ragazzi quella parte di destra secondo me è inguardabile quindi Copminers 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 altro bravo bravo sono d'accordo anche una volta altro vuol dire che secondo me non prendono nell'uno nell'altro ma lo sa perché? perché si Calafiori no allenatori Napoli chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? italiano 40% Sarri 22 Conte 18 Murigno 15 5 altro Cantella altro ma sai perché? perché ce ne sono altri 74 io sono d'accordo con Cantella questa volta te lo giuro te lo giuro di questi comunque non si sarà nessuno signor Carrieri allora io domenica ha fatto meno domenica domenica ho azzardato il nome di Gasperini però stavolta non dico altro ti dico Sarri perché è in crisi di McNuggets no così c'ho questa idea Sari spero non italiano ma penso italiano pubblicità a tra poco uro germine prostata è la stessa ecco perché sosteniamo di grandi e piccoli club tutta Italia perché per noi la passione fa la differenza pezzo un punto sport se ti viene fame a lavoro con gli amici o in famiglia entra in Glovo e scopri un mondo di possibilità gastronomiche piatti salutari locali asiatici e molto altro con promozioni ogni giorno al 2 per 1 o con sconti fino al 50% scarica Glovo e ordina cibo spesa e tutto ciò che vuoi Glovo tu ordina ci andiamo noi rieccoci dai voglio leggere qualche messaggio sogno da testa dell'autore della Juve con Chantel che gli fa domande scomode tu negli altri Manu sì ovviamente sì abbiamo Massimo Massimo 56 tranquillo i milanisti non sono tutti avvocati ma abbiamo subito torti per tanti anni e quindi c'era con Dario la lista è lunga poi pensa solo a Recoba dovevate andare in B non pagare una super doveva andare sì dovevate andare in B non pagare una super anche il giudice anche l'avvocato anche il giudice e poi c'è Stefano Balvi che tifoso dell'Inter doveva andare in Serie B io sì io sono abbonato sono spogliato senza giacca sono senza giacca perché mi fa bene il caldo no ma io sono ho l'abbonamento in curva ma domani guardiamo Pechino Express durante la diretta lo commentiamo ma c'è la prima puntata? la prima sono già la 26esima ah ok noi qua in diretta al posto di fare la trasmissione parliamo di Pechino Express preferirei guarda Del Debbio mi piacerebbe commentare gli scambi di Del Debbio ma si può rimandare in diretta cioè mentre loro parlano si mette noci si parla sopra del subbio tipo mentre parlano di moschee parlare di un'altra cosa e fare tutto un discorso a caso sarebbe bellissimo secondo me allora poi c'è Stefano De Milazzo che dice Lautaro era arrabbiato con se stesso perché si è autocomprato al fantacalcio e sperava di fare una doppietta all'Empoli un po' cattivo poi Mino ricordatevi che Celanoglo e Turam sono reduci da infortuni Lautaro è stanco dopo una super stagione e comunque una mediocre partita contro l'Empoli sarebbe una delle migliori stagionali per Milan e Juventus sì ma vabbè lasciamo stare non hanno capito no infatti perché sarebbe un discorso troppo lungo va bene esatto va bene così e poi un altro Dennis dice sulla Juve ha ragione Cantella colpa anche dei giornali un primo tempo da stalla rispetto a ieri dopo due gol sono passati alle stelle e cos'è che dice Patrizio da Catanzaro vuole che lo leggi tu vuole che lo leggi tu ciao sono Patrizio da Catanzaro vuole dire a Carieri che l'Inter ha fatto un girone ridicole ed è passato come secondo grazie a tre rigori con delle squadre ridicole ma quale partita ha giocato bene in Champions ditemene una no ma quale è vero infatti ha giocato bene in Champions forse col Benfica il secondo tempo col Benfica in casa che ha vinto una zero sì che si è accertata quant'è finita sei a zero no lì con la prendita che ha messo a fine in cacina per il passaggio del turno dopodiché essendosi qualificata con due turni d'anticipo e le ultime due partite di fatto ha fatto turno sai che voglio e mano mi devo appropriare di un messaggio Roberto da Merlino che dice da poco ho scoperto la vostra trasmissione vi ritengo piacevoli divertenti e competenti giustamente siamo degli ignoranti ma un po' troppo tifosi io però vabbè non mi far parlare un pochino logorolci il bal di Andrea occhio qua Cantella sempre da supportare licenziare collovati eh eh è vero quindi non si può fare questa cosa potremmo fare un merdissimo io e te merdissimo sì noi lo faremmo bene guarda come risponde Gianluca anche Dario si unisce ti unisci bravo bravo Gianluca beh 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 McDonaldissimo va bene Della Renti si chiama Conte tre volte al giorno e riceve sempre due picque questo è Paolo Bargigia che lo scrive e ce lo dice fino alla fine ti ringraziamo che ci dici cosa dice Bargigia voi credete da Cervi Roberto Pizzi guarda anche se non ci credessimo non mi sembra il momento di risponderti cioè personalmente non mi interessa neanche in questo momento passando voi c'era fallo su Ronaldo o no questo dovremmo chiederlo c'è chi mi scrive Cantella giuramelo lui lui se ne andrà c'è una io vorrei potertelo giurare chi è chi è aspetta che vedo il nome salvo Cantella Cantella me l'ha scritto veramente venti volte cruciami a calcissimo sarebbe il top dei top dovete avvantato l'editore ci parla potete tranquillamente no però sai cosa hanno scritto prima che tu dovresti tornare a pulire i microfoni come fai alla zanzara ma vabbè quello è il mio primario lavoro poi io mi vengo milla sera cioè ma tu compari in studio e pulisci i microfoni posso venire anche a casa tua se vuoi durante le partite del zanzara volentieri quella ce la guardiamo insieme assolutamente non so se ne frena di pulire la casa e Piolli resta sono cattivissimi con noi? sì più del solito ma chiedimi via messaggio via mozzata allora leggiamolo se sono cattivissimi e li ha letti lui e questo è cattiveria no questo è cattiveria ma anche c'è quello che vi si dice che non sono tifosa non sono una vera tifosa è vero sono complimenti allora Chantel Piolli resta io direi che non è il caso cioè direi riesce sempre a rispondermi con una cosa che non capisco se ti prende per il culo o no no Giallur direi che non è il caso perché è palese che il ciclo di Piolli sia finito da un pezzo perché doveva andarsene io l'ho detto tante volte lo ripeto ancora una doveva andarsene ancora con la coppa dello scudetto in mano perché chi glielo fa rivincere uno scudetto a Piolli posso farti la provocazione ma se dovesse vincere l'Europa League e io ho detto anche questo se dovesse vincere l'Europa League meriterebbe la riconferma ma a quel punto secondo me per quello che gli hanno detto coglie lui la palla al balzo che dice oh ragazzi ho portato ma esattamente fossi in lui a ragione a ragione Davide io non commetterei di nuovo lo stesso errore me ne andrei ancora con la coppa in mano infatti secondo me comunque che vinca o meno o che perda sì che vinca o che perda appare il mio Piolli andrà via perché come dice appunto Cantella il ciclo comunque di Piolli è già finito è finito appunto ai tempi quando ha alzato lo scudetto quindi doveva andare via non è voluto andare via ok hai fatto comunque una stagione che ovviamente è bella rispetto comunque a quella dell'anno scorso quindi diciamo che i tifosi hanno ritrovato comunque la serenità anche grazie a un Ibrahimovic e quindi secondo me che vinca o non vinca andrà via comunque anzi va via con più orgoglio e più gioia non è stato intelligente come Spalletti no perché poi vincere l'Europa League non è proprio una roba così no esatto ricordate il momento non sono paragonabili tu paragoni la vittoria in una città umorale no 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 umorale con assenza di scudetto la situazione personale degli allenatori non dell'ambiente assolutamente ma sono diversi anche quelle e sono anche diversi allenatori perché stai parlando di Spalletti che uno è stato considerato mister secondo posto per tutta la vita e poi stai parlando di Pioli fino a lì aveva fatto qualcosina ma niente di eccezionale non aveva avuto esperienze così importanti all'estero invece l'ha avuto di Spalletti tipo la Russia e appunto voleva crescere in una squadra forse anche più importante di quella che forse è la più importante raggiungerà nella sua carriera secondo me come sempre c'è stato un credere in Pioli e un attaccarlo sempre troppo Pioli però come glielo ho difesa a Gennaio e dissi io me ne sarei andato se avessi passato il turno di Champions così per rispondere a tutti quelli e qui erano pronti a impallinarlo io se vinco me ne vado però se perdo resto e mi faccio rifare la squadra dall'algoritmo dimostrandovi che i cani sono i giocatori e non io bene ti sei fatto tanti amici tra i giocatori e tra i cani io amo i cani vlao vinco io titolo a tutto sport come? vlao vinco io per un rebus vlao vinco io? e guarda sai un titolo del genere quando l'avevano fatto? alla vigilia di Napoli Juve gli ha portato bene rascina la Juve aiuta i compagni è decisivo Dugian plus Valenzio Simen De Laurenti scarica su Giuntoli male firme Marotta con Gelerinovi buongiorno voglia di Big Mandragora Siluro Viola Atalanta affondata tra l'altro mamma mia Mandragora tra l'altro adesso non sono una vedova di Mandragora però posso dire una cosa era vostro a onor del vero era della Juve Mandragora è diventato una plus Valenza no è stato uno dei casi grandi casi di plus Valenza di quella roba lì all'Udinese esatto e poi però cosa hai fatto? hai speso 40 milioni per Locatelli ma allora io dico no ma Locatelli era inutile ma allora io dico è stato inutile ieri ma tanto valeva tanto valeva tenersi Mandragora eh anche perché guarda un po' stasera Mandragora ragazzi in formato nazionale ma comunque ragazzi ma non è per il gol di stasera no no è per dire che c'è così tanta differenza no chiedo tra Mandragora e Locatelli no perché è inesistente Locatelli ragazzi no no ma io ti dico questo guarda te lo dico da tifoso che Mandragora l'ha sempre criticato però Mandragora c'è una grande differenza rispetto a tutti i giocatori della Fiorentina ma siccome ci si ma fai Locatelli rispetto a Locatelli ti metto anche Locatelli settimana scorsa abbiamo giocato al giochino Bologna Juventus guarda il centrocampo del Bologna siccome ci si bagna la bocca con quel centrocampo lì Mandragora secondo me sì sono d'accordo potrebbe stare anche in quel centrocampo che fa la fase difensiva fa gli inserimenti davanti quando c'è da ammenare Mena quando c'è da tirare tira ragazzi questo c'è bisogno di giocare di avere fiducia ma non è un fenomeno però almeno sta lì a ammenare le mani a fa la legna a tirare quando c'è da tirare poi ti dico su Locatelli secondo me Mandragora bisognerebbe vedere con l'Egri che fa allora vi lancio una bomba che domani mattina lancerà la gazzetta che è la seguente ve la faccio vedere Zirkze vota Milan diavolo prepara offerta 50 milioni più sale makers e i soldi preferisce rimanere in Serie A il Bologna lo valuta oltre 70 milioni domani la gazzetta aprirà con questa cosa i soldi li stampa l'algoritmo esattamente li stampa l'algoritmo i soldi li hanno li destinano solo ad attaccante come il fantacalcio fanno la difesa del centrocampo con 100 milioni 100 fantamilioni e poi 70 li mettono solo su un attaccante però Giroud va via quindi praticamente giocheranno con Jovic cioè Jovic serve di Zirkze Zirkze che stanno infortunato per un mese se ti si infortuna gioi con Jovic situare e quindi quando mi dicevo che Jovic era fondamentale ora lo tenete perché volete spendere solo per l'attaccante avevo ragione anche lì avevo ragione anche lì avevo ragione e quindi ragazzi c'è c'è mi viene il dubbio che Dario possa essere il procuratore o di Jovic o di Blauvic di qualcuno vero anche di Costi anche di Costi non l'ho mai difesa perché non lo conosco ma perché è indifendibile non si difende neanche con lui stesso esattamente però la notizia è molto forte Davide secondo te è verosimile attenzione perché fosse questa la valutazione che ti viene data di Zierkze a me ricorda tanto Blauvic ma l'avevamo detto noi ma noi l'avevamo fatto il parallelo e siamo stati i primi e gli unici vai no no ma infatti è vero anche perché non è un giocatore che ti garantisce mi sembra 25 gol come caratteristica o gioco maggio poi magari lo diventerà ti mette in condizione gli altri di segnare no chiaro che è meglio di quelli che hanno poi si sa stoppare il pallone questo fa questa differenza del mondo quello si però adesso comunque si tratta sempre di un giocatore bravissimo che ha fatto un anno a Bologna non è detto che sia proprio quello che ti cambia la squadra ragazzi ma questa valutazione che fa il Bologna è fuori da ogni anche perché scusate se fosse veramente un fenomeno ma è anche accettarla che è fuori di testa certo se fosse veramente un fenomeno magari il Bayern che ha la prelazione a 40 milioni ci farbbe un pensierino mentre lo lascia così poi sicuramente sicuramente sarà meglio degli attaccanti can adesso assolutamente ragazzi però non pensate che Ziggs venga a fare venga a fare Giroud cioè stiamo parlando di un giocatore completamente diverso stiamo parlando di un giocatore che appunto come nel caso di Vlaovic ha bisogno di una registratina di una vite allentata bene di una nuota con fia il Milan messa bene ecco si deve ancora sestare diciamo stiamo attenti a cascare nell'emozione di andare a Malpenza all'Innate a fare il calosello perché il Milan ha comprato Giroud perché poi quando si segna due golli si infortuna la terza giornata poi tu fischi e quindi il Milan di giocatore così che sono comunque abbastanza tecnici comunque bravi a puntare l'uomo ne ha ne ha più di uno secondo me gli servirebbe più uno come Icardi per dire per fare un esempio c'è uno che sei sicuro che te lo butta dentro ma non è che vuole tornare a Milano i Cardi Davide hai buttato un nome che comunque già risuona i Cardi si è colore un nome che risuonerà ancora ovunque anche ai Cisci ce li dovrebbe risuonare già ne sta parlando e quindi hai lanciato proprio un nome che secondo me sarà però vi voglio chiedere prima di andare in pubblicità Manu per te un sì Cirque de Milan c'è una buona buona questo allora è azzardato rispondere adesso come adesso secondo me molto probabilmente il Milan se dovesse accettare comunque 50 milioni sarebbe un po' scelerato scusate il termine però molto probabilmente perché paragona l'offerta comunque del Bayern quindi non se la vuole non si vuole far scappare il giocatore potrebbe potrebbe andare quindi 80% sì mi sbilancio a me piace tantissimo Cirque de ma quel prezzo è giusto che vada al Milan eh beh ah tu dici la Juve al posto di Vlaovic non prenderesti mai assolutamente ma certo ma con 70 teni Vlaovic e prendi un altro al posto di Milano ragazzi ma di che si stanno a proposta baldi basta dire cagate venderanno megnano prenderemo finalmente attaccante carne secche di persone venderemo megnano e chi prende carne secche sei sicuro di avere la carne secche ai Milan eh se lo paghi sì quanto te lo pena ma a me non mi pare sto fenomeno comunque vai capri io non voglio adesso lo dico perché è troppo facile prendersela sempre con Locatelli io non voglio più vedere Milik non lo voglio più vedere e beh manco io ce ne sei però posso dirti una cosa mi piace Milik ah beh anche perché c'è qualcuno che ieri sera ha provato la furbata partiamo con la nuova stagione di Belve la sera prima ma la sera dopo Besti arriva ma la Fagnani vuoi dare tu e tu che bestia ti senti tra pochissimo restate lì perché si comincia ovviamente io faccio il gatto mammone ma c'è bisogno della pubblicità e beh non possiamo più aspettare non possiamo più far aspettare eh sì pubblicità no perché il ghiaccio con Vivident xylit e 100% xylitolo Vivident vivi fresh al 100% se ti viene fame a lavoro con gli amici o in famiglia entra in Glovo e scopri un mondo di possibilità gastronomiche piatti salutari locali asiatici e molto altro con promozioni ogni giorno al 2x1 o con sconti fino al 50% scarica Glovo e ordina cibo spesa e tutto ciò che vuoi Glovo tu ordina ci andiamo noi ti aiutiamo a scegliere la casa dei tuoi sogni sì perché noi di Tempo Casa abbiamo a cuore i sogni di tutti anche dei clienti del futuro Tempo Casa ed è già casa fermi tutti ma il mutuo ci pensa più mutui casa per noi non è un semplice gioco è emozione passione divertimento lacrime per noi è massima espressione del talento è arte è esigente ma alla fine premia tutti non solo chi ha segnato una rete in più ma anche chi ha emozionato più degli altri Zeus ambiziosi e sognatori dalla nascita reflusso gastrico trio di geracide reflusso controlla l'iperacidità prevenendo i bruciori e i dolori di stomaco trio di geracide reflusso fai pace con il tuo stomaco e in caso di cattiva digestione trio di geracide digestione tre azioni in una sola bustina rompi il ghiaccio con vividen xylit 100% xylitolo vividen vivi fresh al 100% ti aiutiamo a scegliere la casa dei tuoi sogni sì perché noi di Tempo Casa abbiamo a cuore i sogni di tutti anche dei clienti del futuro Tempo Casa ed è già casa fermi tutti ma il mutuo ci pensa più mutui casa per noi non è un semplice gioco è emozione passione divertimento lacrime per noi è massima espressione del talento è arte è esigente ma alla fine premia tutti non solo chi ha segnato una rete in più ma anche chi ha emozionato più degli altri Zeus ambiziosi sogni e sogni torri dalla nascita grazie a tutti grazie a tutti Buon suor, buon suor, madonna raga, siamo di frettissimo, allora, 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 voglio partire, questo è Dario, allora, queste bestie, per chi non lo sapesse se quelle fosse collegate adesso, si cambia totalmente e si va dritti per dritti su Beatles, vediamo, vediamo, questo è un repus di Dario Baldi, quindi è difficile, allora, c'è Baldi, allora, c'è una classifica, esatto, questo è un film, è un film, dovete pensare a dove sono nato io, sempre l'hai nato lui, l'hai cambiato la settimana scorsa, esatto, però non la città, dovete pensare a dove sono nato io, e anche dove è nato Max Allegri, poi dovete pensare a una canzone dei Beatles, famosissima, che ci racconta un momento della giornata, che è un momento in cui, diciamo, uno si sveglia, e poi, diciamo che io sto, dove sono nato io, in quel momento della giornata, dove stanno tutti rispetto all'Inter, amici miei, dice Claudio, no, no, dove stanno, partiamo da qui, dove stanno tutti rispetto all'Inter? è abbastanza in basso, dietro oppure in basso, oppure giù, no, oppure, ragazzi, sotto, sotto, ok, quindi sotto, sotto, il ragazzo della via blu, no ragazzi, sotto, nella mia regione, la zona dei Beatles, Andrea De Selle in Toscana, Carrieri c'è, grande, grande Davide, grande, sotto il sole della Toscana, Under the Sun, Under the Sun, si chiama così il film, perché Here Comes the Sun, the Beatles, ragazzi, Carrieri c'è, io sono schifato da questo, cioè se l'hai indovinato quell'animale, mezzanotte e 53, l'ora del Morsello, buona digestione fra un padre Zucco, raga, voi non sapete cos'è il Morsello, è trippa, raga, è trippa, trip advice, no, 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 quelle tri, madò, cos'è sta roba, questo è sempre Dario, questa è la canzone, fregiatissima, allora, questo va spiegato, facci vedere, allora, canzone, canzone, allora, è italiano o straniera? La canzone è italiana, italianissima, è un grandissimo pezzo, famosissimo di un cantante che ha origini calabresi, Perino Gaetano, dai, bene, Pirlo, perché i tifosi di quella squadra lì modificano quella canzone con un coro, quando uno gioca con le figurine, che cosa fa? Si scala, no, fa, cosa fa con le figurine, fai, manca, manca, ce l'ho, manca ce l'ho, e poi vabbè, ma il, com'è, 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 raga, questa canzone è il coro, è l'inno del crotone quando entra all'ezio uscita, e pure il coro quando entra il Ferranis con la grande gradinata della Sampdoria, beh ragazzi, questo non è un regalo, il cielo è sempre più blu, certo, bravissimo Paolo, quando la Sampdoria gioca e segna, fanno il coro, anche Lorenzo ha indovinato, ma il cielo è sempre più blu, cerchiato di blu, cerchiato di blu, è vero, Claudio Bernardi, Lorenzo Berugini li hanno indovinati, Ruttolomeo è tornato, e dice Rebus Ibaldi, peggio della difesa della Salernitana, Ruttolomeo, allora, Rebus adesso di chi? Oddio, cos'è sta roba, questa è un'altra di Cantella, questo, questo è un film ragazzi, è un film cult, io solo cult faccio, allora, ci sono delle mani, straniero, come sono ste mani, vi aiuto, come sono? Spork, ok, di terra, ok, spork, ok, l'altra cos'è? Una? Danza, il tango, ok, quindi? Danza sporca, mettetelo in inglese? Ah, tango a Parigi? Non è a Parigi, le mani sporche non sono a Parigi, quella se vuoi la strage di mani pulite potevamo fare, no, ma visto che era una cosa un po' peccantinosa, hai capito? Vedi, 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 vedi? Dorty dancing? Oh, bravi, 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 bravi L'altro è veramente politically correct? Oh, no, questa è una canzone, c'è Toto Cotugno? Questa è una delle canzoni simbolo degli anni 80? Ma chi è che c'è? Ma quello qui, aspetta, quello era Toto Cotugno ok, allora Anna Fach voi mettete una più l'altra ma chi è la prima? no, no, no ah oddio, no, capito non possiamo ridere ha vinto l'Oscar è Cotugno è Cotugno come si chiama Cotugno? Toto Toto quindi? è Africa vediamo ci siamo quasi vediamo cosa scrivono gli amici da casa allora Falco a metà nota un Falco vi prego mi fate morire però io sa che non l'ho capita non lo so dai dai su ragazzi gli amici da casa su veloce ballroom Rosanna 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 sì bellissima la canzone mi fatti mettere la canzone Rosanna l'ha indovinata anche Silvio anche Silvio ma posso far vedere Silvio Silvio Berlusconi pace all'anima giuro ma non è Silvio Berlusconi è dato un messaggio dopo aver cringiato così male poi c'è un bonus sì ragazzi c'è il bonus di madonna perché ci sono questo è un film anche questo è un film cult tre uomini in una gamma no ragazzi al capone è bene al capone quindi oddio vediamo vediamo se se lo indovino in whatsapp su forza allora sta arrivando si addormentata no sì veramente ho solo fatto quella di fatti veramente ti prego Davide allora dai che stanno scrivendo un attimo un attimo vediamo tre volte Allegri nella stessa in mattina e ti ti stivano e perché sono tre amici The Untouchable yes bravissimo Paolo hai dominato scusami Gabriele ma vedendo tre volte Allegri penso più che altro ai tre porcellini piuttosto che Untouchable poi hanno scritto il padrino chi è che vinceva i suoi match con la 619 vabbè è facile Chavo Guerrero Santino Marella o Rey Mysterio Rey Mysterio secondo che indovino è una bestia è una doppia mia uscina allora ragazzi una bestia ragazzi ma com'è possibile che si indovigna di queste impazzis quali di questi lottatori concludono i suoi match con la Spear Eddie Guerrero Chris Benoit o Edge quello sbaglia quello sbaglia vabbè dico Eddie Guerrero no no Chris Benoit no quello non si potrebbe niente leggere no esatto ma anche anche da casa Lorenzo ha indovinato per come Whatsapp Gangster Squad Edge vedi tutti l'hanno dato Rami Stiro YouTube grazie Maria Quinta grazie buona notte a tutti quanto è finito Inter Parma del 2005 2006 2 a 0 Goldi figo il primo in Serie A è cambiasso noi questo dovremmo fare con lui è la prossima volta non ci siamo messi d'accordo Baldi ciao a domani madonna buona notte a tutti ciao Cantello ciao 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 a domani ciao buon Nui a Tulemon domani c'è anche detto da voi bestie bestie chiedi un Fiorentina Inter degli ultimi anni dal 97 a oggi veloce quanto un Fiorentina Inter a caso Fiorentina Inter è una stagione però dai 2006 2006 2007 prima giornata 2 a 3 vero 2005 2006 2 a 1 per la Fiorentina ciao con tutte le problematiche di carriere ciao a tutti buonanotte buon pomeriggio a tutti eccoci in diretta con la nostra riunione di redazione saluto Matteo Zorgoni ciao ben ritrovati Alfio Musmarra ciao a tutti Michael Cuomo ciao eccoci e Stefano Donati ciao a tutti parto dalla Juventus due gol che salvano Allegri la chiesa i Vlaovic beh un po' è stato così perché ieri parlavamo con Momblano prima della trasmissione Momblano ci ha detto e c'è Michael Cuomo presente che conduceva attenzione perché se la Juve dovesse perder male Allegri può saltare a fine primo tempo la sensazione era quella con Elkan allo stadio fino a fine primo tempo la sensazione era assolutamente quella poi devo dire che anche la percezione dello studio ma dai però io con tutto il bene come fa a esonerare Allegri era notizia di Luca Momblano lo so lo so infatti ne ho parlato anche ieri con lui se non avessi vinto ieri esonere Allegri a stagione in corso eh però se non vinci neanche ieri vuol dire che ha fatto una vittoria inizia Montero è solo una questione di scossa però anche tu sai che De Rossi non era la scelta giusta per la Roma però a livello mentale lo spogatoio ha portato qualcosa ha fatto filtrare non lo so